Sì ragazzi, in questo video parliamo secondo me Luca e i cinque giocatori più forti e come quinto giocatore metteremo un cortiere. Allora io come primo posto metto Osimena. Io come secondo posto metto Leao. Allora io come secondo posto in questo campionato comunque secondo me ha fatto più Kvaraschelia che Leao perché attualmente in questo campionato secondo me Kvaraschelia è stato meglio di Leao. Io come terzo posto metto Kvaraschelia. Io invece come terzo posto metto Leao. Io come quarto posto metto Teo Hernandez. Anch'io metto come quarto posto Teo Hernandez non perché siamo milanisti ma perché Teo Hernandez è forte. Teo Hernandez questo campionato ha fatto molto. Come quinto posto te che portiere metti? Beh ovvio ma Gnan è il portiere più forte d'Europa pensa l'Italia. Anch'io metto Magic Mike Magnan. Ciao! Ciao! Ciao!